vediamo la presentazione abbiamo avuto tre funzioni io sarò di aprire l'universitetta LUM prima di aprire l'universitetta LUM e John Nesbita e l'Università l'università ha avuto la delega dalla Camera di Commercio perché si vota e la LUM e l'interporto di Bari e il centro logistico di Piro i trecce prestavano il potenziale allo scopo di zone Piro e il terzo tema è la presentazione